Il giorno dopo l'annuncio del Rettore Leone non mancano le reazioni del mondo politico, soddisfazioni di Antoniozzi, Caruso e consiglieri regionali di Forza Italia, critiche da Ferro e dal sindaco di Catanzaro. Il Rettore Leone replica, avanti per la nostra strada. C'è una proposta di riforma della legge elettorale regionale che porta la firma dei due consiglieri, Antonio D'Oschiavo e Raffaele Mammoliti. Lunga intervista al Fatto Quotidiano, il procuratore Nicola Gratteri, nella quale critica l'atteggiamento del governo nella lotta alla criminalità, Meloni mi ha deluso. Le aziende agricole carabresi che hanno subito danni dalla siccità che ha colpito la nostra regione, riceveranno un indennizzo, l'annuncio dell'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo. Il 26, nel giorno di Santo Stefano, la Serie B celebra l'ultima gara dell'Unione 22. Il Cosenza affronta il Cagliere mentre la regina farà visita all'Ascoli. Buonasera dalla redazione TG10, dunque medicina all'unica, la reazione è polemica, il sindaco di Catanzaro Fiorita dice, intendo verificare gli atti, di contraria anche Vandaferro, a favore Fratelli d'Italia, che con il deputato Antonio Ossi afferma basta campanilismi. Per il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, è una scelta a favore della Calabria. Vediamo. Si fa sul serio all'Unical. Il rettore Nicola Leone lo ha ribadito ai nostri microfoni, parte il corso di medicina e prevede i tirocini all'annunziata. Anzi, si va oltre e per rafforzare l'ambito sanitario, il prossimo anno accademico sarà avviato anche il corso di infermieristica. Una nota diramata dall'Ateneo, le parole del Magnifico al nostro TG di ieri, immediate le reazioni. A Catanzaro il sindaco Fiorita punta l'indice sul rettore dell'Università Magna Grecia, Giovanni Battista Sarro, reo di essersi astenuto in sede di Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Calabresi, che di fatto ha dato il via libera per medicina a Cosenza. Intendo verificare tutti gli atti, dice il primo cittadino di Catanzaro, la reazione indignata condivisa dai consiglieri municipali bipartisan della città capoluogo. Contraria anche la sottosegretaria Vanda Ferro, che esprime perplessità. Ho sempre ritenuto la nascita di una nuova facoltà, afferma, come un'inutile duplicazione che rischia di frammentare le risorse e dare vite a due realtà deboli, poco attrattive. Potrebbero essere a loro volta penalizzate dai numeri. A favore si schiera il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, secondo il quale la decisione del Coruc di autorizzare nuovi corsi di laurea ad Arcavacata, usando l'ospedale dell'Annunziata come clinica, è di grande portata per Cosenza e per la Calabria. Una scelta di valore la definisce il sindaco della città dei Brutti, Franz Caruso. Il riconoscimento della facoltà di medicina a Cosenza possa rappresentare un arricchimento dell'offerta nel campo sanitario per la nostra regione, per cui insieme all'Università Magna Grecia si potrebbero creare sinergie per dare la possibilità ai tanti ragazzi della nostra regione di poter frequentare questi corsi, di potersi specializzare e di poter realizzare anche il loro progetto lavorativo qui nella nostra terra. Ne approfitto per fare un auguri a tutti quanti voi, a tutti i vostri telespettatori, ma a tutti i cosentini, i calabresi e gli italiani. C'è una proposta di riforma della legge elettorale regionale che porta la firma di due consiglieri, Antonio Loschiavo e Raffaele Mammoliti. Sentiamo. Basta con questa legge elettorale regionale. A scandirlo in maniera perentoria due consiglieri di minoranza, Antonio Loschiavo del gruppo misto e Raffaele Mammoliti del Partito Democratico. Alla presentazione della loro proposta di riforma a Palazzo Campanella della partita pure il consigliere comunale ed ex candidato sindaco di Reggio per il movimento La Strada, Saverio Pazzano. Ovviamente questa proposta di legge è aperta alla condivisione di tutte le forze oggi presenti in Consiglio regionale. Vogliamo parlarne proprio oggi, che non ci sono elezioni in vista, proprio perché su questo tema possiamo ragionare in maniera serena, obiettiva, senza strategie di basso respiro. La legge elettorale calabrese va cambiata, lo dicono tutti. Il voto sulle liste condiziona l'elezione del Presidente della Giunta. È una legge ovviamente novellata più volte, sottoposta più volte al vaglio di costituzionalità. Quattro gli snelli articoli della proposta normativa, il fulcro in due questioni. Primo, consentire finalmente il voto disgiunto, cioè come abbiamo visto, dislegare quello espresso per il Presidente, eletto a soffraggio diretto, dal voto per i candidati a uno scranno d'assemblea. Secondo, ridurre la clausola di sbarramento dall'attuale quasi invalicabile 8% a un decisamente più masticabile 3%. Calabresi disaffezionati alla politica, dice qualcuno. Disaffezionati a questo sistema elettorale regionale hanno risposto nel tempo i vari tanzi, i vari altri soggetti che sono rimasti al palo nonostante decine di migliaia di suffragi. In Calabria esiste una vera e propria crisi di rappresentanza e una vera crisi della partecipazione democratica, tant'è che non va a votare oltre il 50%. E' chiaro che questo è riconducibile a diversi fattori. Uno di questi fattori è sicuramente la legge elettorale, una legge elettorale che era stata immaginata proprio per cercare di tenere lontano gli elettori, il popolo dal palazzo. Parliamoci chiaramente, insomma, noi abbiamo la percentuale per entrare in Consiglio regionale più alta d'Italia. Lunga intervista del Fatto Quotidiano al Procuratore Nicola Gratteri nella quale critica l'atteggiamento del Governo nella lotta alla criminalità e dice la Meloni. Mi ha deluso. Mentre il Governo incassa il sì alla manovra della Camera, un secco no arriva dal Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri in riferimento ai temi legati alla giustizia e alla lotta alla criminalità organizzata. In un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, Gratteri ha criticato l'operato del Governo soprattutto in relazione alla questione intercettazioni. Secondo il magistrato si tratta di uno strumento fondamentale non solo per la lotta alla criminalità organizzata, ma anche a quella comune e in tema dei reati contro la pubblica amministrazione. Da un lato, secondo Gratteri, c'è l'Europa che investe in tal senso e scopre vicende come il Qatargate. Dall'altra l'Italia, che non ha investito negli ultimi anni in strumenti tecnologicamente avanzati per contrastare la criminalità. Oggi le organizzazioni criminali usano i criptofonini, ha sottolineato il Procuratore della DDA di Catanzaro, proprio per non essere intercettate, mentre in Italia si cerca di porre un freno alle intercettazioni, fondamentali per provare, ad esempio, atti di corruzione. Sui costi delle intercettazioni, questione sollevata dal Ministro Nordio, Gratteri ha sottolineato come le intercettazioni rappresentino il meno caro fra i mezzi di ricerca e la prova. Le spese principali riguardano invece la custodia dei beni sequestrati e i risarcimenti per la durata dei processi. D'accordo invece Gratteri sulla limitazione delle pubblicazioni e delle intercettazioni stesse. Quelle non rilevanti non devono essere pubblicate per questioni legate alla privacy. Uno dei provvedimenti a adottare invece sarebbe quello relativo al personale, riempiendo gli organici di magistrati, cancellieri e forze dell'ordine. Dunque una bocciatura per l'operatore del governo, quando Meloni si è insediata, aveva indicato la lotta alla criminalità organizzata come una priorità del suo governo? Ci avevo creduto, ha detto Gratteri, evidentemente ho sbagliato. Chiusura legata al suo futuro? Se potessi non lascerei mai la Calabria, ha detto, ma in prospettiva nel Mirino ci sono il posto da procuratore generale a Roma o a Firenze. Personale della squadra mobile di Reggio Calabria insieme a personale della Guardia di Finanza ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto due soggetti di nazionalità uzbeca, ritenuti responsabili di favoreggiamento dell'ingresso illegale di stranieri sul territorio nazionale. I due soggetti, 27enne o 25enne, ritenuti gli scafisti di uno sbarco avvenuto a Reggio due giorni fa sono stati portati nella casa circondariale di Argillà. Le aziende agricole calabresi che hanno subito danni dalla siccità che ha colpito la nostra regione riceveranno un indennizzo l'annuncio dell'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo. In arrivo fondi alle imprese agricole calabresi che hanno subito danni a causa della siccità. Oggi il ministro dell'agricoltura Lollo Brigida ha firmato i decreti a sostegno delle imprese agricole danneggiate. Poche piogge temperature anomale fino allo scorso mese di ottobre infatti hanno creato condizioni di forte sofferenza per gli agricoltori e così la giunta regionale ha esteso a tutto il territorio la segnalazione circa lo stato di siccità. Una situazione grave che ha coinvolto tutto il settore agricolo e che ha portato naturalmente alla crisi tantissimi agricoltori. Quindi questa situazione merita un risarcimento e quindi la Calabria parteciperà alla suddivisione dei circa 200 milioni di Euro che il governo con il proprio decreto legge ha stanziato nello scorso mese di settembre. Speriamo che le somme possano aumentare e quindi dare un ristoro agli agricoltori che sicuramente hanno avuto minori produzioni a causa di questa pesante, pesantissima siccità. Per i prossimi anni bisognerà fare molta attenzione, bisognerà accumulare acqua d'inverno e bisognerà risparmiarla d'estate perché la vera battaglia sarà la battaglia dell'acqua. Natale è sinonimo di solida realtà e la terra di Piero non si tira mai indietro, organizzata una cena solidale nella sede dell'Associazione a Cosenza per un momento di fratellanza e condivisione fra popoli e culture diverse. Le tradizioni natalizie calabresi incontrano la cultura bengalese, una cena solidale di fratellanza che unisce popoli e culture diverse sotto lo stesso cielo. La terra di Piero moltiplica le iniziative di sostegno e aiuto per chi si trova in situazioni di disagio economico e sociale, un'occasione di condivisione, di momenti di allegria tra amici che ogni giorno lavorano per fare del bene, senza fronzoli e senza ricevere nulla in cambio se non l'affetto e l'apprezzamento di tutti. Purtroppo il Natale è anche un periodo in cui il disagio economico e sociale si fa sentire più pesantemente, per questo si moltiplicano le iniziative di solidarietà rivolti a chi ha bisogno di una mano per rendere questo momento più sereno davvero. E la terra di Piero con le sue innumerevoli iniziative dà sostegno agli ultimi realizzando una vera e propria catena di sostenibilità umana. I ragazzi dell'associazione Io Noi e i ragazzi del Delfino sono insieme e stanno cucinando i ragazzi italiani, stanno facendo la laga del Cicero, la cosentina, i ragazzi invece i bengalesi stanno cucinando le loro specialità e questa condivisione, questa interazione tra popoli possiamo dire è quello che la terra di Piero si prefigge, quella terra di Piero che lavora ogni giorno affinché si possa tradurre in fatti concreti un'integrazione, una bellezza di condivisione tra popoli che per noi è fondamentale e sarà fondamentale soprattutto per il futuro della nuova generazione. La conoscenza tra le persone, tra i popoli alla fine diventa quel tratto d'unione che può dare una valenza migliore, ripeto, alla generazione futura perché questo è quello che più ci interessa. E ora parliamo di cinema perché a Castrovillari è stato presentato un corto sulla vita e le opere di Gesù, vediamo di cosa si tratta. Gesù il Cristo, questo è il titolo del cortometraggio del giovane regista castrovillarese Samuele Leogrande presentato nella sua città. È stato un percorso difficile di post-produzione e di montaggio però insomma secondo me è venuto un ottimo lavoro. Il corto, la prima produzione cinematografica di Leogrande è stato girato tra Castrovillari, Civita e Morano Calabro realizzato in coproduzione con l'associazione culturale Chimera. Nico D'Angelo e Accademia 09. Avevo finito il montaggio 15 giorni fa ed era una cosa totalmente diversa da quello che avevo in mente e non mi piaceva infatti. Poi 10 giorni fa ho finito il montaggio, l'ho rimontato da capo, anche grazie all'aiuto di Antonio Lacamara che è un mio grandissimo amico e insomma è venuto quello che volevo, cioè un cortometraggio di esperienza più che di narrativa, ovvero che si avvicini più a un'esperienza di cinema totale, cioè anche quello che ho in mente di raccontare. La pellicola rivede in chiave moderna il racconto evangelico dei 40 giorni nel deserto di un uomo speciale che aveva compreso la reale potenza dell'essere umano, l'amore. Così scrive nella sinossi del cortometraggio il regista che ha provato a raccontare la figura di Cristo all'inizio del suo percorso spirituale di accettazione alla sua chiamata tra dolore, stanchezza, rabbia, mentre Cristo si muove nel deserto alla costante ricerca di un segno. Simone che intanto è stato selezionato fra i 30 registi in tutto il mondo, parteciperà al primo workshop di cinema all'interno dei videogames con due maestri che hanno vinto Cannes e Venezia, i total reflusal e il regista Ismail. Sta già pensando al suo prossimo lavoro che girerà sempre in Calabria, sempre a Castrovillari. Racconto un po' la figura del curandero che è una sorta di sciamano, lo chiamano dottore dell'anima e del cuore nell'America Latina, lo rivisiterò un po' in Chiave Calabrese e lo ambienterò nella mia terra di infanzia a Camarata dove ho vissuto 10 anni. Il giornale termina qui, grazie per averci seguiti, l'informazione torna nelle prossime edizioni, vi auguro una buona serata e anche un buon Natale, arrivederci. Grazie a tutti.